Siamo stati capaci, si legge in una nota ufficiale, di cogliere il monito che Papa Francesco ci ha lasciato quando ci ha fatto visita cinque anni fa. Abbiamo attuato il patto per il lavoro, mettendo insieme le forze locali in modo costruttivo. Monito che oggi diventa un appello alla responsabilità di Morisani. Nei giorni scorsi la riunione tra il Vescovo, i parroci di Boiano e i fedeli della città e al termine la seria preoccupazione per il nodo problematico che si è creato attorno allo stabilimento del gruppo avicolo morisano. Oltre a manifestare solidarietà a tutti i lavoratori coinvolti in questa sofferta questione, è triste sapere, scrivono Bregantini e i parroci di Boiano, che l'azienda Madori rinuncia ad investire 30 milioni per il rinnovo del macello dopo che il contributo pubblico, pari al 40% dell'importo, aveva avuto il via libera dalla Commissione europea. Come chiesa locale pensiamo che la causa di questo sia la mancata attrattività degli investimenti per la ristrutturazione nei confronti del gruppo Madori nel suo progetto di riqualificazione dell'azienda. È un nodo etico, prima ancora che finanziario, interpella le coscienze di tutti noi, non restiamo alla finestra ma entriamo in gioco, occorre perciò intervenire con tavoli operativi capaci di risolvere i grovigli tecnici, finanziari e relazionali. Il rischio infatti è che si possa arrivare ad una sconfitta epocale per il Molise. L'appello dunque a Regione, Sindacati, Magistratura perché si adoperino saggiamente a non perdere quest'occasione d'oro di riconversione dello stabilimento avicolo. La politica assuma dunque la solerzia attiva, l'operatività sapiente, non lasci indietro nessuno, renda attrattiva la nostra terra con quel patto per il lavoro invocato dal Papa. Infine l'appello ai lavoratori e alla città di Boiano affinché restino uniti e compatti non solo nei momenti di emergenze ma attivi sempre giorno per giorno e l'appello per il lavoro si estende anche ad altre realtà industriali da tempo in crisi come l'ITR e lo zuccherificio ormai privi anche di ammortizzatori sociali.